ben tornate un nuovo video Murillo mi ricorda e siamo registrando poco dopo la partita che ne ho visto ieri io sto ancora avvelenato comunque si, diciamo che la gente è da merda esiste e' stata veramente un partita che mi ha lasciato deluso che è una partita che intanto potevamo vincere 10 a 0 un urivo inesistente, ha fatto un milanone in ultimi 10 minuti non ciò non pensava e pensavo a questa partita e cercavo di vincere Niente, quindi in questo episodio Se vedete due partite, due vittorie Siamo passati Ovviamente, io non riesco veramente Me ne so, però ancora ben nato La prima partita di ieri Vai, 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 vai No, no, ho sbagliato Sbagliato, calcola, perché te la volevo passata Stanto ho premuto il cerchio Quindi mi ha fatto la finta, vaffanculo Vai, 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 vai Che cazzo, però, no, per il giorno Comunque, vedete Quindi io non ho capito il segnalo Dovevo fa Oh, ma fammi continuare Capito, ma c'è, ha fermato il gioco Giallo o qualcosa Non so Va bene, va bene così Ciao, ha detto Allora, c'entra, vabbè Vabbè, dai, ciao Sì, no Mi creda Allora, ti chiede, vabbè Oh, c'è più Oh, ho, ho, ho Ho una zero parata Grandi, vedi perché voglio vampersi Perché già vampersi da suoi Di maria Mortaggio, ma che tocca a male Segnata Io non ce l'ho, io penso Ragazzo, la macchino Ma che tiro che era Cioè, ti erano di precisione con Bens, seriamente Era un passaggio che tiro Ancora Bella Ho sbagliato Pallò Io no Che non è possibile Ma che forditi No, io, ci sa cagli lì in mezzo No, no, perché l'hai avvicinato Bene, dada fuori No, ora è grosso No, è vero Pallò Sì Ma sono il bunda Pallò, mia Vedermi Dai, glielo Sbagliato Vabbè, metti me Eh, cazzo, po Parco di Dici Pum No, no Guarda, non ho detto Parco di Dici Perché quando vogliono dire Perciò, parco di Dici Hai dato il caso Ho detto Parco di Dici Beh, inizio, ci riprova Col sinistro, da qua, vai In croce E lei Dai, ma sei stato fermo Ma perché vieni addosso Parco di Dici Ma viene addosso, cazzo, sto fermo No Cagliata la ricerca la ricerca del corpo da la la direzione la bella parma provita se ti per il tempo dai volo il fatto 15 un po la fa un po P måche cazzo bah! kiş ела stavo qui l'altra volta scelgo, non so perchè Cė forco di lorganismo for specify vai vai c'č chetemi fa stai tranquillo e ci dade una volta, me ne vado, porco dici, mamma mia che cazzo di col quadrato, non ci voglio crede, ma la mia, si, guarda tu, guarda, 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 che cazzo fa, da lui, fido da solo, dai, porco dici, guan quadrato, grande iaia, iaietto, iaietto, no, tira, porco dico quanto ci ha messo a tirare, da fuorigioco, incredibile, ma io so quanto cazzo ci ha messo a tirare, cutigno, ma da quanto sputo oggi, sputigno, boom, ve lo pare che stava già in porta, da fuorigioco, cutigno, incredibile, l'ha messa dove nessuno poteva prenderla, marvalue in tin non mamma Pinus ah! piaci dire che gran palo per lui fa tutto bene nel tiro ho ma rosico musica su di me perchè mi stai a trance a me c'è guarda questo fli segna che cazzo tu devo fa basta basta melina basta comunque da un gol pagato le culinio potessi 4 a 0 è diventato 3 a 1 LEVATI hai segnato stai tranquillo ho fatto non mi ha fatto dai e dove si vuole benedì il titolo e non manco acqua un po' mano un po' mano a tutti i due lati benedì no vedi e per favore se non ho toccato ho toccato ore prima partita andata 4 1 prossima se la vinciamo siamo passati yes terza divisione rio con me eccoci qui con la seconda partita del giorno manca una vittoria per la promozione quanto bundesligone si chi non se la rimpi ah vabbè ma scusa a questo punto spendi più soldi, fatti roba, non liberi vabbè comunque e da vigore di punta c'è il troppo giocato dopo un anno e mezzo di vita non ho mai tirato di punta Sergio Aguero mamma mia ho mezzo si si che cazzo di cross che ha fatto no 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 ma che sei brutta no mamma mia che cazzo di bel cross dai che la rivediamo subito la terza divisione avevamo promesso che ci torniamo subito boom assist man oggi eh tre aziende no no è vero uno ho segnato io vabbè assist ma perchè non ho fatto due assist e penso ormai ci siamo in terza eh ci siamo se andiamo pure a giocare a titolo io ho detto che se si disconnette non c'è la vittoria invece gioco non so le parole se ne va salute e se ne va se ne va la capolista se ne va siamo in terza divisione guardate 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 versaci 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 l'ho non so le parole